GF Vip, l ex amante di Francesco Monte svela la verità. E Cecilia?. Grande fratello Vip, Cecilia, l ex amante di Monte esce allo scoperto. È tornata a parlare sui social Jessica Cerniglia, la presunta amante dell'ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte, attualmente fidanzato con Cecilia Rodriguez. . Jessica aveva confessato di avere avuto degli incontri segreti e ravvicinati con Francesco nella sua stanza d'albergo, questo evento risale al 2012 quando Monte scelse Teresa Anna Pugliese, oggi mamma di un bellissimo bambino e compagna di un imprenditore napoletano. . All'epoca le confessioni di Jessica Cerniglia, fatte durante una puntata di Uomini e Donne, destarono molto scalpore al punto da dividere l'opinione pubblica, molti credevano che la ragazza, fanacanita di Francesco Monte, avesse inventato tutta questa storia solo per avere visibilità, mentre altri, come Teresa Anna Pugliese all'epoca, diedero molto credito a questa confessione. . Se ieri Jessica è tornata a minacciare di rivelare delle verità sul rapporto con il fidanzato di Cecilia Rodriguez, attualmente concorrente del GF VIP, a distanza di 24 ore ecco ritornata con un nuovo video-shock. . Cosa avrà dichiarato?. . GF VIP, Monte ha avuto un amante durante la storia con Cecilia. . Jessica Cerniglia, presunta ex amante di Francesco Monte, è tornata a parlare sui social con un secondo video, dopo aver minacciato ieri di svelare la verità sul rapporto con l'ex tronista di Uomini e Donne, proprio mentre Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembrano essere sempre più vicini al grande fratello VIP. . . Intanto volevo ringraziarvi perché siete in tantissimi a sostenermi. . Voglio aggiungere anche che tante trasmissioni mi stanno invitando, ma io sinceramente al momento non mi va di rendermi visibile. . . Sarà arrivato l'invito da parte di Barbara D'Urso? Come mai non le va di rendersi visibili? Eppure i social sono una bella vetrina, quindi non dovrebbe avere nessun problema soprattutto se sostiene di dire la verità. . Per quanto riguarda la mia verità ve lo dico qua, adesso qui a voi, la mia verità è il fatto che lui lo sa, ovviamente c'è stato di più ed è chiaro che non potevo espormi più di tanto visto che ho avuto rispetto al contrario di una coppia. . . Messaggio in codice che dice tutto e niente, ma soprattutto Jessica Cerniglia è ritornata a parlare di una dinamica accaduta ben cinque anni fa, quando Francesco Monte scelse a uomini e donne Teresa Anna Pugliese, o si riferisce al periodo della storia con Cecilia Rodriguez. Mistero. . La ragazza ha dichiarato, inoltre, di non essere mai stata denunciata da Monte e ha smentito categoricamente di non averlo mai seguito a Miami negli USA, lui sa bene cosa è successo lì, tra l'altro il fratello ha cercato quasi di alzarmi le mani addirittura. . La storia continua e. .